Buongiorno ragazzi, in questa video-lezione affrontiamo la tematica della crisi della scolastica soffermandoci in particolar modo su quello che è forse il più interessante, il più originale dei filosofi della scolastica che è Guglielmo di Ockham. Procedendo con ordine, possiamo vedere come dopo Tommaso d'Aquino il tomismo continua a svilupparsi, quindi con tutto l'aristotelismo che Tommaso aveva portato con sé pur contrastato dagli altri pensatori agostiniani, in genere dell'ordine francescano come ad esempio Potevano essere Buonaventura da Bagnoreggio. Parallelamente anche l'interesse che si era sviluppato nel mondo latino per i grandi commentatori arabi di Aristotele, in particolare Averroè, si era sviluppato, andando poi, procedendo, aprendo l'interesse sempre maggiore nella tarda scolastica per la ricerca naturale con un grande autore che è Ruggero Bacone o Grossa Testa, Roberto Grossa Testa dell'Università di Oxford. Un autore che è stato una delle fonti principali di Guglielmo di Ockham è Dunscoto, il cosiddetto dottor sottile, come era soprannominato, per la sottigliezza dei suoi argomenti. Argomenti che riproponevano comunque l'aristotelismo come la vera filosofia, quindi a questo punto, dopo quel dibattito che si era aperto soprattutto per i contemporanei di Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, se scegliere per la descrizione del mondo e le verità teologiche Platone o Aristotele, ormai si era pienamente sviluppata nella tarda scolastica la posizione aristotelica che proponeva l'ideale appunto di una scienza fondata sulla dimostrazione appunto di matrice aristotelica e cominciano a separarsi sempre di più il dominio teoretico della filosofia da quello della fede. Questa spaccatura però viene raggiunta, trova la sua massima conclusione in Guglielmo di Ockham, così detto soprannominato il dottore invincibile, tanta era la forza delle sue argomentazioni. In lui troviamo ormai il raggiungimento di quella posizione di una impossibilità di un accordo tra la ricerca filosofica e la verità rivelata, per cui quel problema scolastico che avevamo già visto tra ragione e fede trova ormai il suo compimento. Tanto che effettivamente non subisce come invita Guglielmo di Ockham, che apparteneva all'ordine francescano e insegna come diversi altri autori del periodo, tra cui lo stesso Grossatesta che è stato il primo, insegna appunto all'università di Oxford, poiché Guglielmo nasce appunto a Ockham nel Sarri in Inghilterra, quindi era inglese, in virtù delle sue tesi che vedremo essere molto radicali, sarà costretto ad andare ad Avignone, dove ricorderete nel 1300 si era spostata la sede del papato, allo scopo di rispondere ad alcune tesi sospette, 51 delle quali verranno censurate da una commissione di sei dottori, tanto che lui stesso nel 1328 sarà costretto a fuggire da Avignone insieme a Michele da Cesena, che era il generale dell'ordine dei francescani, in quanto entrambi erano sostenitori della tesi della povertà di Cristo e degli apostoli. Si rifuggerà a Pisa, poi a Monaco in Baviera, probabilmente fino alla morte. Le sue opere principali sono il commento alle sentenze di Pietro Lombardo, di cui abbiamo già parlato precedentemente di quest'opera fondamentale per la scolastica, e soprattutto la somma dell'intera teologia. Partendo dall'analisi dei concetti senza induggiare oltre, dobbiamo dire che a livello filosofico la posizione di Guglielmo di Ockham è di un empirismo radicale. affermando che tutto ciò che oltrepassa i limiti dell'esperienza non può essere né conosciuto né dimostrato dall'uomo. Questa tesi, vedremo, sarà così moderna, tanto che Ockham può essere visto a metà strada tra medievali e moderni perché apre effettivamente a molte posizioni della filosofia moderna, poiché questa stessa posizione sarà ripresa da Immanuel Kant alla fine dell'età moderna, da uno dei giganti appunto della filosofia moderna. Le verità teologiche quindi, per Ockham, poiché non possono essere oggetto di esperienza, cadono sempre al di fuori della ricerca filosofica. Proprio in quanto si fonda invece sull'esperienza, la conoscenza umana si apre soltanto al mondo della natura, deve indirizzarsi al mondo della natura. La base, il fondamento della dottrina di Ockham è quindi una teoria dell'esperienza che utilizza una distinzione che già Don Scott aveva fatto, quella tra conoscenza intuitiva e conoscenza astrattiva. Vi parlo brevemente di questo, poi passiamo al nocciolo della questione. Per conoscenza intuitiva si intende la conoscenza che conosce con tutta evidenza se una cosa esiste o non esiste, poiché ci viene dai sensi. Quindi un oggetto di cui facciamo esperienza immediata possiamo giudicare subito se esiste o meno, ragion per cui è oggetto di conoscenza intuitiva. Questo tipo di conoscenza permette all'intelletto non solo di giudicare immediatamente della realtà o in realtà dell'oggetto, ma anche ci fa conoscere i rapporti, ci permette di conoscere i rapporti tra le cose. La conoscenza intuitiva a sua volta si distingue tra conoscenza perfetta, cioè l'esperienza attuale, presente, immediata dell'oggetto, e una conoscenza intuitiva imperfetta, cioè il ricordo di un'esperienza passata. Tra queste due conoscenze c'è un rapporto di derivazione, in quanto ogni conoscenza intuitiva imperfetta, cioè passata, deriva da una esperienza attuale. Quest'altra posizione di Guglielmo di Ockham anticipa un'altra grande posizione, che è quella di John Locke inerente alla conoscenza attuale, che si riferisce, diciamo che è perfettamente ricalcata, dalla tesi della conoscenza intuitiva perfetta di Ockham. Sulla base della conoscenza intuitiva si gioca la conoscenza astrattiva, cioè quella intellettuale, quella che permette all'intelletto di astrarne gli oggetti dell'esperienza per formularne dei concetti, a livello astratto appunto. La conoscenza astrattiva quindi prescinde dalla realtà o dalla irrealità dell'oggetto. Tuttavia, afferma Ockham nel suo radicale empirismo, c'è sempre un rapporto di derivazione, poiché la conoscenza astrattiva deriva da quella intuitiva, poiché io non posso astrarre dei concetti di oggetti di cui non ho mai fatto esperienza. Ragion per cui la conoscenza intellettuale, la conoscenza astratta è possibile solo partendo da quella intuitiva, da quella dei sensi. Questo non vuol dire però, afferma Ockham, che anche la conoscenza intellettuale non sia almeno in parte intuitiva, cioè l'intelletto in primis per poter astrarre qualunque tipo di concetto, deve intuire che quelle stesse cose singole che sono oggetto di esperienza appunto esistono. Ragion per cui c'è un livello della conoscenza intellettuale che appunto dà per scontato l'esistenza degli oggetti, poiché sono frutto dell'esperienza. Un altro elemento tipico dell'intelletto che conosce intuitivamente è la conoscenza intuitiva dell'intelletto dei propri atti, cioè dei propri moti immediati dello spirito, come ad esempio da un lato la consapevolezza di conoscere, dall'altro per moti immediati dello spirito si intende il piacere, il dolore e quant'altro. Quindi là sarebbe la consapevolezza dei propri moti interni. A questo punto andiamo al nocciolo della questione, cioè la teologia, poiché mentre in Tommaso avevamo quella distinzione fra teologia naturale rivelata, per cui non c'era però contraddizione tra di esse, poiché Dio aveva creato l'uomo e quindi la ragione, per cui la ragione non poteva entrare in contrasto con la fede. Qui invece abbiamo una totale eterogeneità, poiché ogni realtà che trascende l'esperienza non può essere raggiunta per via naturale umana e quindi siccome di Dio non facciamo esperienza non possiamo averne conoscenza certa e dimostrativa. C'è quindi una radicale eterogeneità tra scienza e fede. La fede religiosa potrebbe essere dimostrata, dice Ockham, solo se si avesse una conoscenza intuitiva di Dio e del soprannaturale, ma poiché questo non c'è, non è possibile. Ragion per cui, afferma Ockham, la teologia naturale non può esistere, perché non può essere appunto conosciuto dalla sola ragione. Ragion per cui, afferma in maniera molto radicale Ockham, gli articoli di fede non sono principi di dimostrazione né conclusione, non sono neppure probabili. Esclude perciò la realtà rivelata dalla ricerca filosofica e dalla conoscenza umana. Il problema scolastico diviene quindi insolubile. La teologia cessa di essere una scienza. Si apre appunto quella totale separazione tra scienza che conosce la natura e tutto ciò che l'uomo può conoscere attraverso i sensi e la fede, oggetto della teologia, che però è frutto solo di rivelazione, e quindi qualcosa che in qualche modo è irrazionale. Oltretutto, in questo senso, ragione e fede quindi occupano due ambiti diversi, e nella sua critica radicale Ockham arriva a criticare le prove dell'esistenza di Dio, anche qui in maniera estremamente moderna, riprendendo da alcune critiche mosse già in precedenza. Prima di tutto, partendo dal presupposto che l'esistenza è data soltanto dall'esperienza, e anche questo sarà una tesi kantiana, cioè quindi dalla conoscenza intuitiva che viene dall'esperienza, qualunque prova dell'esistenza di Dio non ha alcun valore dimostrativo, perché Dio non è oggetto di esperienza. Quindi l'uomo viator, il viandante su questa terra, non può conoscerlo. Partendo dalla prova ontologica, egli afferma che appunto, in primis, Dio non è oggetto di esperienza, e quindi di Dio non se ne può conoscere l'esistenza. Oltretutto, afferma l'esistenza non può essere disgiunta dalla conoscenza dell'essenza di una data cosa, poiché vanno sempre di pari passo. Ragion per cui, di Dio, oltre a non poterne conoscere l'esistenza, non ne conosciamo nemmeno l'essenza, poiché anche questa dovrebbe derivare sempre dalla intuizione della sua esistenza. Ragion per cui si scardina tutta la tesi di Tommaso, che affermava che di Dio non si poteva conoscere l'essenza, ma se ne poteva conoscere almeno l'esistenza per via dimostrativa, cioè attraverso le prove dell'esistenza di Dio. E infatti, proprio contro Tommaso, desume una prova contro, quindi una prova contro quella cosmologica di Tommaso, poiché egli nega i due principi fondamentali su cui la prova cosmologica di matrice aristotelica si fondava. Prima di tutto, il principio secondo cui tutto ciò che si muove è mosso da altro. Egli afferma effettivamente non è vero in senso assoluto questo, poiché, anche qui prendendo dalla teologia, l'anima e l'angelo si muovono da sé, ma, e qui facendo riferimento alla natura, qui si inserisce alla modernità di Ocam, dice anche il peso tende verso il basso, ragion per cui non è vero che tutto ciò che si muove è mosso da altro. Oltretutto non è vero in senso assoluto che è impossibile risalire all'infinito nella serie dei movimenti, quindi nella catena delle cause. Poiché qui, facendo riferimento alle grandezze cosiddette continue, di cui si era già parlato dai tempi di Zenone dei Pitagorici, egli dice nelle grandezze continue il movimento si trasmette necessariamente da una all'altra parte delle infinite parti che le compongono, ragion per cui, in questo caso, si dovrebbe necessariamente risalire infinitamente nella serie dei movimenti. Così facendo, negando i presupposti della prova cosmologica, cade effettivamente la prova. Quanto alla prova desunta dal principio di causa, anche qui la grande modernità di Ockham afferma che non è possibile dimostrare che Dio è causa efficiente, totale o parziale dei fenomeni, poiché, egli dice, le sole cause naturali potrebbero essere effettivamente sufficienti per spiegare i fenomeni stessi, cioè la natura può essere spiegata facendo ricorso ai principi stessi della natura, cioè ai principi interni che la governano. Ragion per cui sarebbe già possibile di per sé spiegarla senza far ricorso a Dio. Ragion per cui la conclusione di Ockham è che le prove dell'esistenza di Dio, non avendo alcun valore dimostrativo apodettico, possono determinare nell'uomo soltanto una ragionevole persuasione. Per cui l'azione di Dio nel mondo è semplicemente un postulato della fede, ma non ha valore razionale.